salve a tutti ragazzi con dan3dn e benvenuti in questo nuovo video oggi torniamo su fifa un uem van govo c'è sempre matt e ora scendiamo giù e oggi siamo nella divisione 9 cioè l'altra volta però oggi la dobbiamo superare quindi mettiamo a sara voglio le crestore tutti sui barbo che ha fatto un super gol in testa ma super gol no vero dite 83 subito ai poi c'è il ramos così ho capito ma tutta questa qua ramos cioè tutti costano un miliardo ma che cacchio aveva fatto si è piegato si è piegato mai angolo e se ne raccoglie aveva visto che era la terza in passarla jackson è stato un bravo la terza gamma come fa la parata ma perché non l'ha passata in barbo e l'ho messa in barba sempre sbagliata l'ho messa in barba sempre sbagliata la super parata ma è di pancia la strada di prego e barbo e l'ho mai passata la misura la bandiera la che ci ha mai mai la bandiera la 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 Gervinio Gio Pierre Fanno partire a Gio Pierre Gio Pierre E' quello la che lo bussia come un porto Gio Pierre E si sveglia la squadra Oh ma me Rodriguez Si fatto crescere i capelli Mi è arrivato da qua In realtà sono stato gli assegnati Allora ne ho detto il gozzo contro Stava avanti Oh In mezzo a mille persone Percussione cilindrale Ah beh C'è il terreno Allora abbiamo Abbiamo fatto due gol Bravo Sì Ce l'abbiamo fatta Il mega squad Assoluto Ma quello è grosso Poi ho preso un giallo Che schifo Abbiamo preso due pari Comunque la vittoria è veritata Tantissimo Super parato Abbiamo arrivato Abbiamo arrivato a Renfeller In crema Obama è anche gervine Due esterni Due minuti Dove ha segnato Guarda Capito qua Due minuti più belli dell'esistenza Sto qua 81 Questo quasi grande fornò starmi 3 art ma questa acqua matrici non possiamo cercare sulla carta è più forte ma comunque la 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 premier league fortissima a prescindere che giocatore già e poi c'è i remi e non tira roma mi pensa non farà si 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 ma la labor per colpo si con le non sono sempre uscire con le c'è sto brand TV che non ci vanno indossi portieri quelli vanno a destra ma non riesco più secondo se vanno a destra il tiro non posso scelte non è possibile hanno fatto sta cosa a fifa che la escono e ci camminano a fiamma mamma mia è arrivato già dalla perché quando tira al volo dirà più forte però non ha fatto la fatta rimbalzare la capivano troppe volte cacchio di colleghi con lei lo scrive la vala prende di faccia veramente ma non è giusto è stato due tiri 3 t da 4 se buttata addosso a lei guarda cacchio denti adoramos questa ma pure a noi la para per preparare quel tiro la quel bug jackson martine e ho andato già la via perché già ho visto che aveva questo che aveva messo che già stava così la stella 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 terra così non mi fai capesato due a due come due a due è vero una segnata ma quale è stato il primo a dire il mio è vero giusto dire che quest'anno un'auto Fregi! Fregi! Che schifo! L'unico che c'ha mille di tiri. Guarda, che schifo! No, lo chiede sono fermato. L'ho con la fermanza. Sono fessi il salto. Stava già la mati. Quelli stanno tutti in attacco, poi tornano. Nel caso servisse, no? Quelli vengono fatta a capire. Nel caso tornano in giro. Hai visto? È bravo. No, Germia, si stava baciando Sterling. Tu baci e ci stai. Scusa, è più rapido. Tocca al ramo! No! Che schifo! Come fai a fare quella cosa? Ma che schifo! Sono pronto! E quello lì. Germa HN. Ne ho. Il barbo sta... Quanto era... Jackson! Mi fa coi! Ha tirato 16 metri! Ha tirato di naso. Ma bacca! Il barbo... Il naso, ragazzi. Ha fatto così. Parra di naso. C'è la parola. Ti piace uno chilometri orari da un centimetro. Poi non vada sticendo la cocco. Il tirone! Comunque la devi uscire in quel caso. No, quello ti fa il super tiragiro. Onde sta? Dove è la macca? Alla macca! Di nuovo, di nuovo! Schema di prima! Schema di prima! Le skill di Matt! Il barbo! Questo li tira! Li para! Li tira! Il barbo deve segnare! Il barbo deve segnare! La divisione contro... Ha tutto il sangue! Il sangue che non c'è. Il secco che è stato malmenato! Squartato da una difesa per ora! Ha vinto due tessane! Due nasate! Il nasate! Lo sta per bianca lo sa! La maliettà bianca! Tanduno! Quanto non c'è se fosse fosse più o meno fosse... Pisellone! Trovare! Fai con le bagaglie! Ah, c'è giù! Ad attacco è... E' ultra fuori di fisico! Tipo dipendono così! Ti sbattono a terra! Quelli di un attacco ti uccidono! E c'ha William! Beh, lei in attacco li partono in attacco! Li prende in difensore! Lo butta a terra e lo uccide! Ma... 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 Questa è un parente con una biglietta! Che sta succedendo? Ma che cacchio fanno? Io... Si è fermato la terra e la roba! Ma infatti non era rigore! Ma... 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 La faccione di Jackson colpisce ancora! E' qui! Ah! E se siamo noi che abbiamo qui! Eh... E se in realtà siamo noi che abbiamo qui! Ha... Ho tipo supervelo vedi il come! Perché perché? Che cacchio! Ah! Pnamela e la bestia! Ha toccato un pallone! Quello pallone! Perché quel Exodus colore ha tutti da dieci! Quello non ha fatto nemmeno un pallone! Allora ragazzi Dopo il quittaggio dell'ultimo avversario Siamo passati in divisione 8 Che faremo vedere nel prossimo episodio Comunque io vi invito a lasciare un commento Di piacere, iscrivervi al canale Mettere di piacere la pagina di Facebook Che è in descrizione Dov'altro video L'antre di Entry E' tutto Il barbo deve segnare Ci vediamo con un prossimo video Bella ragazzi